Assoluzione all'Ocri, assenti gli elementi di dolo, i dipendenti comunali, dichiarati non colpevoli, non erano i furbetti del cartellino. Nelle motivazioni della sentenza, il giudice Rosario Sobrio argomenta che le emergenze dibattimentali impediscono di emettere una condanna nei confronti degli imputati per il reato loro ascritto. Questo perché, sebbene la fattispecie sia stata oggetto di causa e integrata sotto il profilo materiale, almeno per quanto riguarda una parte degli episodi contestati dalla pubblica accusa, tale integrazione non si è verificata sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo. Il giudice Sobrio giustifica la soluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, il tutto nei confronti di Giorgio Ali, Domenico D'Agostino, Domenico Filippone, Antonio Marando e Francesco Sculli, tutti ex dipendenti del comune di Locri. Questi erano stati accusati, in vari modi, di tuffa aggravata ai danni dell'amministrazione comunale di Locri stessa. Il magistrato, basandosi sulle prove emerse durante il dibattimento e la discussione delle parti, sottolinea che la presenza dell'elemento soggettivo, inteso come il dolo di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale ai danni dell'ente pubblico, è esclusa. Questa esclusione è supportata, da un lato, dal fatto che tutti gli imputati svolgevano le proprie mansioni oltre l'orario di lavoro e anche nei giorni non contrattualmente previsti, compresi i giorni festivi. Dall'altro lato, il giudice fa notare che non è emerso che gli imputati avessero mai richiesto un compenso economico come straordinari per tali attività.